Nel mio atteggiamento progettuale cerco di trasformare le criticità in opportunità ed è per questo motivo che quando utilizzo i materiali lapidei cerco sempre di farlo in modo molto razionale perché credo che in un futuro più o meno prossimo tutti questi materiali saranno difficilmente reperibili e quindi questo modo di ragionare è sicuramente per me generatore di idee e quindi di progetto.